Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi ho fatto degli acquisti, ho comprato tre cose Prima lo Skifidor, ho degli squishy e ho comprato anche lo Skifidor Fluffy Bews Bews, Glitter e Micro Perle di Slime Aspettate che alzo un po' l'esuale Eccolo qui, è molto carino Ed è così, adesso lo apriamo Ecco Allora, vediamo un po' Uma, ha le perle di tantissimi altri colori Ha comunque il profumo e biscottino Allora, vediamo prima Questo Che è il biglietto dove ci sono anche tutti gli altri slime Allora, scrivelo Fluffy Bews Glitter C'era Blu Glitter Micro Poi bianco Marrone Trasparente Rosa No, rosa ve lo devo comprare Nocciola Arancione Rosa Fluo Giallo Fluo Arancione Fluo Verde Fluo Azzurro Fluo Nuova Formula Generale Nuova Formula Generale Ed è bello E' molto carino E allora, se sentite abbaiare il mio cane Allora, comunque eccolo Allora Comunque ha tantissime perle C'è Oh mio Dio Ma sono solo perle? Ah no Oh mio Dio Allora, intanto lo zicaccio Ok Non si caccia E' un po' più appiccicoso Dei 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 Squiddle Fluffy Ma non si caccia Ragazzi non si caccia Oh mio Dio Ho quasi cacciato diciamo Non si caccia del tutto Credevo che si cacciava tutto in uno E' un po' appiccicoso però Comunque è bellissimo Aiuto, è troppo appiccicoso Non ce la faccio E' appiccicosissimo Guardate ragazzi Dopo che l'ho toccato mi vado subito a lavare le mani Aiuto Dopo che l'ho tolto da qui Sblocco un attimo il video Per andarmi a lavare Ecco scusate Non mi sono ancora lavata le mani Non ci riesco questo a poco Non ci riesco Mescoliamo E' appiccicoso maronna Si appiccica A tutte le mani Comunque però E' bellissimo Vediamo Oddio quanto si allunga Dalla pubblicità comunque Non sembrava appiccicoso Scusatemi Aiuto Non sembrava appiccicoso Che cosa è sta storia? Allora trovo a cacciare Questo Questo Pochissimo Ok E' Ecco E' rimasto pochissimissimo Perchè non fa niente Perchè non ci riesco Cioè comunque E' carinissimo E' Guardate ma Hanno aggiunto Tantissima cola Perchè è appiccicoso Cioè si appiccica Quindi hanno aggiunto Tantissima cola Perchè Devo odorare Se è di colla Il biscottino Non Odora di biscotto Questo Tipo di colla Si odora di colla Cioè però Guardate Quanto è Quanto si può Allungare Voi non lo vedrete Ehm Non lo vedrete mai Perchè Cioè Si sta allung... Oh mio dio Un attimo solo ragazzi Eccolo qui comunque Comunque è troppo Appiccicoso Per i miei gusti Ehm Non ho ancora guardato Il video di Erika Kawaii Che Li aveva comprati tutti Non so C'erano tutti E le devo andare a vedere E devo vedere Sereno Anche le abiti Così Ma E' rancione Però Sembri rosa Allora Adesso mi devo levare Tutto questo Questa colla E voglio fare Quello che fanno Tante Youtuber Così Ok Basta Ok Allora Mi vado un attimo A lavare Le mani Perchè Mi vado un attimo A lavare le mani Perchè sono tutte piccicose Eee Vado Guardate c'è anche la colla qui E vado Allora Ragazzi Me ne sono riuscite un po' And Guarda Ce ne sono Certi pezzi Non si levano Vabbè Adesso passiamo Agli Squish C'è questo van Qui Carinissimo Aiuto Ed è Così Ed è Così Comunque Ed è Molto Carino Madonna Con tutto appiccico Non so Ok Ed è Così comunque Ed è Portachiavi Bello Troppo Troppo carino Troppo carino Troppo carino questo squishy Sì Guardate un attimo Ah Si è scaricato il telefono quindi devo fare in fretta per l'ultimo Squish L'ultimo squishy è un gelatino molto carino ed è morsicato però senza glassa quindi non esce la glassa ed è giallo ed ha gli zuccherini molto carini e il cono guardate Quanto è slow rising C'è di solito i gelati squishy non sono così slow rising Hanno capito la formula di come fare slow rising Sono troppo bello Troppo E vabbè questo è tutto Questi sono i miei due squishy e uno slime un po' piccicosa maronna E vabbè spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciate un like e quello che volete voi E se volete vi potete iscrivere al mio canale E commentate qui sotto quali sono le vostre cose preferite Lo slime a me non mi piace tanto bene Tanto perché Cioè mi piace Però è un po' piccicoso E i squishy mi piacciono Cioè tutti mi piacciono Persino la cartina perciò l'ho messa Che profumo Però non il biscottino E vabbè noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao